secondo lei che cos'è che rende questa nuova tragedia quasi un fatto collettivo per cui più di altre guerre questa e non credo che siano soltanto le immagini e il fatto che sui social questa questo evento è molto condiviso perché c'è stata l'invasione della crimea ci sono state tante altre guerre che abbiamo purtroppo vissuto e raccontato perché secondo lei questa ha un impatto emotivo così forte perché la nostra psicologia la nostra psiche molto limitata nel senso che se muore un mio parente stretto che ho molto amato soffro se muore il mio vicino di casa gli faccio le condolianze se mi dicono che ogni minuto muoiono otto bambini di fame di malattie nel mondo resta solo una statistica perché la nostra psiche è limitata e quello che ci accade da vicino lo sentiamo e quello che ci accade da lontano anche per non toccare con mano la nostra impotenza non lo prendiamo in considerazione ma attenzione io non mi accontento della reazione emotiva troppo comodo troppo facile bisognerebbe arrivare ad una ad una dimensione sentimentale il sentimento è qualcosa di più evoluto di quanto non sia l'emozione perché l'emozione è una reazione ad uno stimolo esterno che sorge improvvisamente di breve durata e io temo la breve durata per da parte di noi europei mentre il sentimento è una dimensione voluta che consente di partecipare con costanza esattamente come costante il sentimento della madre per suo figlio ad esempio quello sentimento non è un'emozione se riusciamo a capire queste cose e di educare le nuove generazioni al sentimento forse queste cose possono accadere di meno perché altrimenti se non li educhiamo il terribile è già accaduto e continuerà ad accadere grazie a tutti